Ciao ragazzi e bentornati su FINDICTUS Oggi facciamo il video numero 4 Quindi non perderei tempo E comincerei immediatamente Ok, siamo nel gioco Io direi subito di scegliere un bel server Perfetto Vediamo Come al solito C'è un po' di roba che ho venduto E sinceramente è meglio Ritirarla Ok Accertiamoci di aver Cliccato tutte le scatoline Perfetto E ora riempiniamo tutte le stupidaggine Vai Stupidaggine, reparto 2 Perfetto Salutiamo qui Il nostro amico Baffetto I cagnetti come al solito rompono le scatole Vediamo un po' Alcuni oggetti non sono riusciti a venderli Dovrò rimetterli a vendere Però in complesso abbiamo venduto un bel po' di stupidaggine Allora Cominciamo subito Io farei un bel video di questi Che sono ottimi e abbondanti Perfetto Sessione Ah interessante Vabbè niente Per questo riguardo a questi video Non posso farli Quindi nulla Nulla di fatto Torniamo indietro Facciamo uno di questi Che me le sblocca a fare le mappe Se poi alla fine Non posso farle Ok Siamo pronti Ok Vai Bravo Saluta Cercherò di sbrigarmela alla svelta Un po' con i suoi bei pugnettoni Poi inizierò con un po' di wrestling Farò vedere un po' di prese Eccoli che arrivano Bambino Io direi che tu vieni qui Oh che fai? Ma guarda questo Vieni qui Ma chi te credi te Stai dietro Boh Schiaccio Eia Vai col wrestling Eh no Grazie ma le accettate in faccia A me non piace Però a te ti potrebbe piacere questo Vieni qui Ho deciso che ti faccio un bel suplex Boom Vai col suplex Bim Lo faccio vedere io Ah che pizza Sti raglietti Sti raglietti Sono proprio una cosa Deprimente Fortunatamente vanno giù come Proprio le scatole Di cioccolatini Colorati Levati In pitch Bim Madonna Eccolo che arriva Eccolo che arriva Che ho preso Siiii E allora vai col suplex Vabbè Vabbè non era proprio un suplex Però era quasi A te però Ti schiaccio la testa Bravo Quell'altro è morto schiacciato dai sassi Un ottimo E abbondante Cercherò di essere Abbastanza veloce Quindi Poche prese Ma molte botte Oh Questi cazzotti Io qui Non è che ho tutta la vita a disposizione Ovviamente Molto spesso Non mi fa le combo Perché Dipende dalla latenza Dei server Perché Quando sei in mappa Sei fluido Però in realtà Se c'è latenza I colpi arrivano al ritardo E quindi Una bella rottura di scatole Ciao Un bel cazzottone Pro Di quello lì Come se faceva una volta I soldini I soldini Sono i miei I soldini Sono i miei Corri Corri Eia Bravi Fate eia Opla Eh lo so Lo so Dai passa Bravo No beh Che bisogna stare attenti Questa cosa Che fa veramente male Anche se hai un'armatura Particolare Ci mette X A fartela a pezzi C'è delle combinate Assurde Questo personaggio E ovviamente Fa sempre molto Discretamente male Discretamente Veramente fa malissimo Non vorrei sminuire il tutto Eia Bravi Fate eia Ciccio Tu che fai Vieni con me A Las Vegas Adesso schiaccio la testa Alla Las Vegas Diciamo che lo scopo Bisogna passare qua Ma non bisogna farti schiacciare Dal rullo Eia Eia Opla Sì sì Certo Certo Come dice te Oh amore C'è Oh Vieni qui Ma chi cacca Oh Senti ho capito Uno Due E stop Ma mia Ah le nostre palline C'è anche la pallina rossa Sinceramente Non conta nulla Eh lo so E' stata la fine Della pallina rossa Cambi tutti gli oggettini Veloce Perchè Non c'ho tutto Sto tempo La perde Con la pallina rossa Ok ok Non perdiamo tempo Corri Corri Eh nostra amica Eia C'è la volta Mi piacerebbe Vincerebbe Bel montante E vai col tank Su su Dove sono gli altri Ok Tira fuori l'altro Eh Ti pare che non erano C'erano Dai Su Sì sì Come dite E se vedo Tu accettate Che ne pensate Belli Che cazzo Chi è Butta sta accetta Che non mi serve Diciamo La cosa divertente E che tu puoi prendere Anche le armi Degli avversari E usarle Certo Non hai nessun tipo Di attacco O di combo Particolare Però Alcune fanno Veramente male Ok Schiaccia sto cosa E dammelo Oggetto Ok Sempre sto iron Che poi Sinceramente Non è che serve Serve per fare alcuni craft Però Non è fondamentale Non vale neanche tantissimi soldi A venderlo Certo All'inizio Non è che vi serve A craftare quasi niente Perché in realtà C'è il bazar Come tutti i giochi Del genere Dove tu puoi comprare Tutte Le cose che vuoi Senza Spendere Miliardi Io direi Fare la combo Completa Perfetto Allontanamosi Da questo Che Questo rompe Bravo Bevi E tira Ecco Adesso Vieni 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 Certo Che è stupido Era un destro Micidiale Che è stupido 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 Un ottimo direi Accogliamo tutto Perfetto io Senza perdere Troppo tempo direi di Qui c'è Vedo che la cosa non va quindi via Ok siamo tornati Come al solito spero che vi sia piaciuto il video E ci vediamo ai prossimi video Ciao